9.32, siamo insieme in diretta su Padre Pio TV, salutiamo anche coloro i quali ci seguiranno in differita in replica questo pomeriggio sul nostro canale. Allora, oggi come dicevamo quasi puntata monotematica perché stiamo parlando della GMG che si terrà a Lisbona la prima settimana di agosto con Papa Francesco e giovani provenienti da ogni parte del mondo. Una GMG che torna dopo la pandemia e sette anni dopo ritorna in Europa. E noi siamo collegati con Don Alessio Bianchi che è della comunità pastorale di San Benedetto delle parrocchie di Bulgaro Grasso e Guanzate, siamo nel Comasco, e che raggiungerà Lisbona in maniera particolare. Buongiorno Don Alessio, benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, perché in modo particolare? Perché non andrete in pulma, non andrete in macchina, ma raggiungerete Lisbona come? Abbiamo deciso di usare la bicicletta, è impossibile partire da Como e arrivare fino a Lisbona in bicicletta, ci vorrebbe un mese e mezzo. Allora abbiamo scelto di andare in aereo a Madrid e lì prendere le biciclette che sono partite questa mattina alle 4 e troveremo in aeroporto e poi da Madrid raggiungere Lisbona in bicicletta. Quanti chilometri sono da Madrid a Lisbona in bicicletta, Don Alessio? 670. Beh, insomma, una bella pedalata sarà. Beh, partirete giovedì, quindi manca pochissimo. Posso chiederti com'è nata questa idea? L'idea è un po' vecchia nel senso che sia alla giornata mondiale della gioventù a Colonia che alla giornata mondiale della gioventù a Madrid siamo partiti con alcuni ragazzi di diversi oratori in bicicletta proprio da casa, da Cesano Boscone prima e poi da Cesano Maderno in Milano per la seconda per Madrid. L'idea di usare la bicicletta è riuscire a vedere il posto, incontrare le persone e sperimentare cosa significhi essere pellegrini che chiedono ospitalità e hanno bisogno che la strada li sostenga mentre camminano. Che bello, un pellegrinaggio davvero particolare, quindi arriverete a Lisbona e non sarà solo un punto di arrivo ma da lì partirà l'esperienza della GMG. Quindi dove sosterete, Don Alessio? Immagino abbiate già scelto i posti in cui sostare, sarete accolti dalle famiglie, chiederete ospitalità, andrete negli ostelli. Come vi siete organizzati? Ho la fortuna che una delle mamme dei nostri ragazzi ha lavorato all'ente per il turismo spagnolo prima di venire a vivere in Italia e lei è riuscita a contattare diverse parrocchie, scuole cattoliche, qualche comune e sulla strada più o meno ogni 100 chilometri in piccoli paesi lì in Estremadura noi abbiamo l'accoglienza garantita da queste persone che sono state contattate più o meno un paio di mesi fa. Che bellezza, che bellezza Don Alessio. Allora partirete giovedì, in quanti sarete a compiere questa esperienza, questo pellegrinaggio davvero particolare? Lo ricordo per chi si fosse sintonizzato solo adesso, da Madrid Don Alessio arriverà a Lisbona dove si svolge la GMG in bicicletta. In quanti sarete allora? Saremo in 16 a pedalare e poi abbiamo 5 persone che invece fanno da staff sui pulmini, preparano anche le vettovaglie, ci sono le nostre due suore, due papà, un paio di ragazze che non se la sentono di pedalare e ci aiutano in questo modo partecipando così al pellegrinaggio. Ebbè ci vuole anche qualcuno come dire che in qualche modo vi coccoli e vi accompagni, poi ecco naturalmente sono giorni abbastanza caldi quindi c'è bisogno di accompagnatori. Allora abbiamo, credo che questa foto vi riguardi Don Alessio, ecco siete voi? Sì Ecco bene, magari vestiti in maniera un po' più autunnale, primaverile, immagino che l'abbigliamento sarà un po' diverso in partenza per Lisbona. Grazie di cuore Don Alessio per essere stato con noi, ti auguriamo buon viaggio, vi accompagneremo con la preghiera da San Giovanni Rotondo, dal paese di Padre Pio per questo pellegrinaggio di fede, devozione e anche convivialità verso Lisbona per partecipare alla giornata mondiale della gioventù. Grazie, grazie ancora. E come pellegrini promettiamo di ricambiare la preghiera perché il compito del pellegrino è portare le preghiere di quelli che restano a casa alla meta del pellegrinaggio, quindi ricambieremo di cuore. Ti ringraziamo di cuore noi e tutti coloro i quali in questo momento ti stanno seguendo. Grazie, buon cammino, buon pellegrinaggio. A presto, buona giornata. Grazie, ciao. Poi magari ecco ci risentiremo a termine della GMG, ritorno a casa, ci faremo raccontare com'è stata questa esperienza. Allora, noi abbiamo un'altra fascia pubblicitaria da rispettare, subito dopo torneremo di nuovo insieme con le ultime notizie e gli aggiornamenti a cura di Nicola Morcavallo.